Abbiamo visto che le conseguenze del concilio di Trento si fecero sentire a diversi livelli Conteggiarono anche la popolazione laica, cioè coloro che non erano né sacerdoti né suore La chiesa infatti stimolò tantissimo i fedeli ad occuparsi dei poveri, dei bisognosi E quindi pose l'accento in modo particolare su quelle che sono chiamate le opere di misericordia, le opere di carità In questi due basso rilievi vedi la rappresentazione di due di queste opere che sono Istruire gli ignoranti e Dar da mangiare agli affamati Oppure in questa tavola dipinta da von Alckmark sono rappresentate le opere di misericordia Cattolici e protestanti non riuscirono ovviamente a trovare un accordo Anche perché rappresentavano due visioni della religione completamente diverse Lutero aveva posto al centro della sua riforma la parola di Dio e la possibilità per l'uomo Anzi il dovere per l'uomo di rapportarsi direttamente con Dio La chiesa invece riteneva, la chiesa cattolica, che la cosa più importante di tutte fosse Che il fedele obbedisse all'autorità della chiesa Per esigere l'obbedienza però la chiesa doveva presentarsi con un'immagine di potenza e di trionfo Cioè in un periodo in cui si era sentita rivolgere delle critiche così aspre E aveva dovuto sopportare degli atteggiamenti di ripellione che mai avrebbe pensato di dover sopportare La chiesa sente l'esigenza di mostrarsi ai fedeli vittoriosa e non sconfitta Quello che vedi qua è un'altra rappresentazione pittorica del concilio di Trento Che però ha in questa parte davanti una aggiunta rispetto a quello che abbiamo utilizzato nella parte precedente Questa parte rappresenta proprio il trionfo della chiesa cattolica Questa è la chiesa rappresentata in una figura femminile Che schiaccia a terra la riforma di Lutero Cioè schiaccia a terra tutto ciò che non è cattolico La chiesa diede molta importanza dopo il concilio di Trento Al rito della messa e soprattutto ai gesti Agli oggetti A tutto ciò che trasformò il rito della messa In un momento anche qui di trionfo e di potenza della chiesa E quindi curò in modo particolare tutti i gesti che si dovevano compiere Gli addobbi, gli oggetti che venivano utilizzati E anche la musica che doveva accompagnare la celebrazione eucaristica Anche qui c'è una grossa differenza rispetto a quello che hai visto nella concezione di Lutero Là i fedeli si riunivano e la musica serviva per cantare insieme gli inni sacri Qui invece sottolineava i momenti della celebrazione Anche perché le parole erano in latino E quindi difficilmente i fedeli avrebbero potuto unirsi al coro Come Lutero aveva privilegiato poi la lettura diretta della Bibbia La chiesa invece privilegiò le immagini Statue, dipinti Questa in realtà non era una novità Perché la chiesa aveva da sempre utilizzato questo linguaggio Proprio perché la maggior parte della gente non sapeva né leggere né scrivere Ma in questo periodo queste raffigurazioni pittoriche O di statue si moltiplicarono Diventarono molto più curate, molto più ricche Che ricoprirono letteralmente l'interno e l'esterno dei luoghi di culto Questa esigenza di potenza e di splendore Attraverso anche queste rappresentazioni Venne espressa benissimo nell'arte barocca Nello stile del barocco Con cui venivano costruite le chiese E che rappresentò la massima contrapposizione Con lo stile gotico molto più sobrio Delle chiese presenti nei paesi protestanti del nord dell'Europa Delle chiese presenti nei paesi protestanti del nord dell'Europa